Lo Stuni non si arrende e va avanti con il ricorso. L'Alta Corte di Giustizia ha infatti ricevuto il ricorso da parte della società Assi Basket Stuni contro la Federazione Italiana Pallacanestro. Il ricorso presentato dalla società è infinalizzato all'annullamento del verbale del 13 luglio scorso della Commissione Tecnica di Controllo, con la quale la ricorrente non è stata ammessa al campionato di Lega 2 per l'imminente stagione sportiva 2012-2013. La società chiede in sostanza di far annullare questa delibera della FIP nella parte in cui si prevede la non-ammissione del basket della Città Bianca al campionato, chiedendo la riammissione. Il reintegro comporterebbe però per la federazione la modifica di tutti i calendari già stilati. I tifosi sono in attesa così come l'intera squadra. Quello che è certo è che il patron Domenico Tanzarella è deciso a voler andare avanti anche presso la giustizia ordinaria. Intanto i giocatori dell'Enel Basket Brindisi a giorni partiranno per il ritiro pre-campionato. Data scelta dalla società Brindisi nel 16 alla volta di Cisternino. Dalla società fanno sapere anche che si sta lavorando per sistemare ogni dettaglio di carattere burocratico per poter permettere alla squadra e allo staff di iniziare il campionato nel migliore dei modi.